Riduttivo parlare di motociclette, più corretto chiamarle opere d'arte. Tali sono le 71 moto storiche appartenenti alla collezione del Museo Morbidelli che resteranno alla città di Pesaro grazie all'intervento del Ministero dei Beni Culturali che ha bloccato l'esportazione verso l'Inghilterra dei pezzi motoristici con più di 75 anni di età, ovvero circa un terzo della collezione Morbidelli resta alla città, scongiurato lo smembramento radicale del patrimonio che il compianto Giancarlo Morbidelli organizzò nel 2000 in un museo unico nel suo genere. Morbidelli, autentico genio della meccanica, è scomparso lo scorso 10 febbraio ed ora il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha già pensato a una destinazione per le opere recuperate, un'area di 2000 metri quadrati all'interno dell'ex tribunale di via San Francesco. Un'opera di salvataggio che ha mobilitato non solo il comune di Pesaro ma anche l'associazione terra di piloti e di motori, il club pesarese di auto storiche dedicato a Dorino Serafini e soprattutto l'Asi. Con un esborso di poco inferiore al milione e mezzo di euro l'automotoclub storico italiano ha infatti acquistato i 71 pezzi d'epoca lasciandoli a Pesaro. Noi siamo veramente orgogliosi di essere entrati in possesso dei veicoli a cui non era per il momento stato data la possibilità di circolazione e quindi di esportazione e quindi questo nucleo importantissimo, veramente importantissimo di veicoli saranno la base, il nucleo di quello che potrà essere un futuro museo della motocicletta qua a Pesaro in cui la collezione Morvidelli ovviamente sarà la cosa più importante perché per noi come appassionati di motorismo storico e come ente nazionale che tutela e promuove il motorismo storico poter ricordare il nome di Giancarlo Morvidelli è veramente di un'importanza assoluta per quello che ha rappresentato non solo per il motorismo stesso ma anche per le doti umane di amicizia, di condivisione, di semplicità, di umiltà che aveva e per cui lo apprezzavamo veramente tutti. Mibat ha controfirmato il primo accordo quadro prendendosi l'onere non solo di benedire questo accordo che abbiamo avuto con la famiglia Morvidelli che ringrazio perché da quando abbiamo iniziato a parlare con Gianni e Letizia Morvidelli abbiamo avuto una sinergia di intenti totale ma si è preso anche l'onere poi di accompagnare Asi e Comune di Pesaro nella quella che sarà l'obiettivo fondamentale quindi che sarà non solo la tutela ma anche la promozione e la possibilità di rendere fruibile a tutti quindi la popolazione al pubblico questo importantissimo patrimonio motoristico per far sì che effettivamente si concretizzi nella realtà la possibilità di farlo godere a tutti e far condividere la passione. Sicuramente abbiamo trovato un accordo perché poi erano stentati un veicolo che come le sai alla fine non si erano mai allontanati in questo momento da Pesaro ma stavano per partire diciamo certamente per l'Inghilterra però alla fine anche col Mibat abbiamo avuto un colloquio assolutamente positivo quindi stiamo facendo tutti i passi necessari in perfetta sinergia con loro per far sì di raggiungere l'obiettivo finale che è Comune e in cui sicuramente il Mibat accompagnerà anche il Comune di Pesaro.